Salve a tutti, questa è la mia nuova macchina per la caramella. Vediamo subito come funziona. La novità è che si può scegliere il gusto arancia e fragola. Vediamo subito. Mettendo 20 centesimi e selezionando qui dentro, selezionando il gusto, arancia per esempio, e tirando qua, forza, e da qui uscirà una strada di stessa caramella. Poi si ritira la catenella, si mette questa pezza che abbiamo tolto, si mettono altri 20 centesimi, si sceglierà 3 agosto, bisogna assicurarsi che entri bene la caramella, e ecco qua la nostra seconda caramella. Da qui uscono i nostri 20 centesimi, 40 centesimi, e qui usciamo i nostri 20 centesimi, ciao! Perchè? Perchè?